Ciao! Insieme a mio figlio Alessandro, lo scorso anno abbiamo mostrato molti semplici circuiti che si possono costruire con Arduino. Le schede Arduino hanno il merito di rendere l'elettronica digitale e la programmazione di un microcontrollore semplice e alla portata di molte persone. E spesso, con circuiti molto semplici e poche righe di codice, si riescono a realizzare sistemi molto divertenti. Un'interessante alternativa ad Arduino sono i microcontrollori della serie ATINI. Questi sono prodotti dalla stessa azienda che ha prodotto il microcontrollore ATmega328 di Arduino, ovvero la ATML. I principali vantaggi sono le dimensioni ridotte, ovvero quelle di un circuito integrato da 8 o 14 piedini in formato dual inline e il fatto che lavorano a 5V, come Arduino e i principali circuiti integrati che usano la logica TTL. Il microcontrollore ATmega328 di Arduino necessita inoltre di un quarzo e tre condensatori collegati all'esterno del chip, mentre i microcontrollori ATINI hanno un oscillatore interno, quindi il circuito integrato, una volta alimentato, è già pronto a svolgere i suoi compiti senza nessun altro componente. I microcontrollori ATINI si possono trovare al costo di pochissimi euro. Un ATINI 85, ad esempio, si riesce facilmente ad avere per poco più di 2 euro e circa 4 euro per un ATINI 84. Vero che ci sono microcontrollori che costano pochissimo di più ma che sono molto più potenti, come la serie ESP8266 e soprattutto i microcontrollori ESP32. Però questi necessitano di essere alimentati a 3,3V. Usano questa tensione anche per i livelli logici dei loro PIN, necessitano di più spazio rispetto al ATINI 85 e non sempre la connettività Wi-Fi o Bluetooth è necessaria. Vediamo quindi la serie ATINI. Sto facendo un po' di esperimenti con degli ATINI 85 e ATINI 84. Il primo ha 8 piedini, di cui 5 facilmente usabili, mentre il secondo ha 14 piedini, di cui 11 utilizzabili. Due PIN sono usati per l'alimentazione e uno per il reset del microcontrollore. Il PIN di reset è utilizzato nel caricamento del software. Si potrebbe usare anche come PIN utente, ma in questo caso occorre una procedura particolare per riabilitarlo come reset. Questi due microcontrollori hanno 8 KB di memoria per il software e 512 Byte di RAM. In pratica un quarto della memoria disponibile in Arduino. Altri microcontrollori, come l'ATINI 45 e l'ATINI 44, hanno 4 KB di memoria, mentre gli ATINI 13 hanno solo 1 KB di memoria. L'ATINI 45 e l'ATINI 13 hanno 8 piedini e se la memoria è sufficiente per contenere il software da far funzionare, potrebbero essere utilizzate al posto dell'ATINI 85. La differenza di costo tra gli ATINI 85 e gli ATINI 45 e i ATINI 13 è comunque molto piccola, per cui è praticamente meglio acquistare direttamente l'ATINI 85 se bastano pochi PIN, o usare un ATINI 84 se serve qualche PIN in più. E se usate dei siti economici per l'acquisto, verificate di aver scelto l'ATINI 85 e non altre versioni più limitate. Ovviamente i microcontrollori ATINI si trovano anche in versione SMD, ancora più piccoli, ma meno facili da usare per appassionati di elettronica che non hanno ancora una buona manualità con la saldatura di questi componenti. Proprio la versione SMD degli ATINI è usata nelle schede di DigiSpark, circa 2 cm di scheda e connessione USB incorporata, e la gran parte dello spazio è usata da un riduttore di tensione per poterlo alimentare anche da 7 a 35 Volt. È una scheda un po' particolare, ha qualche vantaggio rispetto al semplice chip ATINI, ma anche alcuni limiti, ma preferisco parlarne in un video a parte perché mi è arrivata da poco e non ho avuto modo di provarla come si deve. Date le dimensioni e il numero basso di PIN, i microcontrollori ATINI hanno meno funzionalità rispetto alle schede Arduino. Hanno sicuramente le funzioni digitali di base presenti in Arduino. Alcuni PIN si possono usare come ingressi analogici e alcuni PIN supportano l'uscita digitale PWM. Manca alla serie ATINI il supporto alla seriale RS232, mentre l'uso di I2C e SPI necessita di librerie software diverse da quelle usate con Arduino. La seriale RS232 si può comunque gestire con una emulazione software, con tutti i limiti che ha l'emulazione software, ovviamente. E se si impara a programmare bene, si possono ottenere cose molto simpatiche da questi chip. Ad esempio, ho visto gestire display OLED I2C con un chip ATINI, ma con la poca memoria che hanno questi microprocessori, i risultati grafici che si ottengono sono molto limitati. Ci sono molti blog che parlano di questo microprocessore. La gran parte però risale a svariati anni fa e di conseguenza insegnano a scaricare e installare a mano alcuni pacchetti software. Oggi è diventato molto semplice usare gli ATINI con l'interfaccia di sviluppo IDE di Arduino. Io uso ancora la versione 1, non sono ancora riuscito ad ambientarmi con la versione 2 di questo IDE e tra l'altro con Ubuntu la versione che si installa in modo semplice e veloce è ancora la 1. Con questo IDE di base si programma Arduino, ma si possono aggiungere molte altre piattaforme da programmare. Dal menu File, Impostazioni, si apre una scheda dove inserire un elenco di URL per il gestore schede. Da questi URL vengono scaricate le definizioni da cui scaricare e installare in automatico il supporto per altre schede oltre ad Arduino. In pratica Arduino, ATINI, ESP e altri microcontrollori si possono programmare praticamente con lo stesso linguaggio, anche se non è detto che le varie librerie software siano compatibili su più microcontrollori diversi. Quando ho provato alcuni mesi fa i primi ATINI 85 che mi sono arrivati, non sono riuscito ad usare l'URL più consigliata per questi microcontrollori, ovvero quella di Drazi che ho scritto nella descrizione di questo video. Dopo alcuni minuti di ricerca sono riuscito a trovare un altro URL funzionante, anche se probabilmente obsoleto, cioè quello di Damellis. Ho visto che in questi giorni l'URL di Drazi funziona, però mi viene da consigliare di stare attenti anche all'età della documentazione, saper verificare se ci sono stati cambiamenti e sapersi adattare alle situazioni che si potrebbero incontrare quando questo video sarà un po' datato. Aggiunti gli indirizzi per le schede aggiuntive, occorre installare i pacchetti effettivi e lo si fa dal menu strumenti, scheda e gestore schede. Facendo una ricerca per ATINI dovrebbero comparire una manciata di schede. Inizialmente avevo provato con il supporto ATINI che comprende vari microcontrollori tra cui gli ATINI 85 e ATINI 84. Consiglio però di usare ATINI core che ha un supporto più recente e completo. Quando è stato installato il supporto a più schede, viene aggiunto un livello di configurazione in più nella selezione delle schede. Questo perché schede diverse potrebbero avere anche parametri diversi per le impostazioni. riguardo gli ATINI le possibilità di scelta sono numerose. Per usare il chip semplice e diretto occorre selezionare la serie di chip ATINI senza bootloader e in una voce a parte si seleziona il chip effettivo. Nel nostro caso proviamo con un ATINI 85. Una voce importante da selezionare è la velocità del clock e soprattutto se il clock è interno al chip o fornito dall'esterno. Velocità più basse significa un microprocessore più lento, ma anche minori consumi, anche se si tratta di pochissimi millesimi di ampere. Inoltre occorre selezionare un programmatore, ovvero un sistema per caricare il software nel chip. Una scheda Arduino è il sistema più semplice e comodo. Occorre quindi procurarsi un normale Arduino e caricare uno sketch chiamato Arduino ISP, disponibile tra gli esempi. In questo modo Arduino diventa un intermediario tra la USB del computer e il chip ATINI da programmare. Carichiamo quindi questo sketch su Arduino e poi riportiamo la configurazione alla scheda ATINI. Tra Arduino e ATINI vanno collegati sei fili, due di alimentazione e quattro per un collegamento SPI, ovvero clock, miso e mosi, più il chip SELECT che si collega al pin reset del ATINI. Su Arduino si tratta di usare i pin digitali da 10 a 13. Lo schema è molto semplice e facile da trovare anche con un motore di ricerca. Va inoltre aggiunto un condensatore da 10 microfarad tra il pin reset di Arduino e Ground. Torniamo all'IDE di Arduino. Apriamo l'esempio Blink. Cambiamo LED built-in con il valore 4 e carichiamo lo sketch sul chip. Colleghiamo quindi un LED al pin 3 dei lattini e lo colleghiamo a Ground con una resistenza. Il LED, come potevamo aspettarci, lampeggia. Proviamo a modificare lo sketch aggiungendo due lampeggi veloci. Carichiamo lo sketch. Tutto funziona come previsto, ma ci sta aiutando il fatto di usare per il LED uno dei pin non usati per il caricamento dello sketch. Se avessimo bisogno di più di 3 pin, oppure dei pin 5, 6 e 7, il chip ATINI andrebbe ovviamente programmato con Arduino e poi scollegato da Arduino e collegato al circuito da gestire. Si possono trovare facilmente delle schede già pronte per programmare gli attini. Ho visto, però, che allo stesso prezzo e aggiungendo un po' di tempo di progettazione, si può costruire una scheda per programmare sia gli attini 85 sia gli attini 84. Lo sketch di esempio Arduino ESP prevede infatti anche l'uso di 3 LED per verificare l'operazione di caricamento del codice. Occorre stare attenti infatti che alcune schede che interfacciano il chip ATINI quasi direttamente tramite la porta USB richiedono un po' di codice già precaricato nel chip. I chip ATINI infatti possono gestire una connessione USB ma lo fanno tramite il software e infatti circa 1500 byte su 8000 sono usati proprio per gestire questo aspetto. Personalmente ho preferito evitare questo approccio ma spero di trovare presto il tempo per provare la versione DigiSpark. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con i vari meccanismi messi a disposizione di YouTube. Come anche se avete suggerimenti fatemi sapere cosa potrebbe interessare di più. L'elettronica mi piace ma purtroppo il tempo per fare esperimenti e realizzare video è limitato. Nel prossimo video cercherò di mostrare qualche esperimento e applicazione concreta con questo microprocessore. Grazie per la visione. Ciao a tutti!